Ciao a tutti, sono Eleonora, benvenuti in campo collettivo Danza Urbana. Sono super felice di coreografare questo dance contest che la Belenosa Music lancia in questo 2022 in cui abbiamo un sacco di voglia di ripartire, ballare, divertirci. Quindi mi raccomando, 3, 2, 1, partiamo che si comincia a danzare! Forza! Vi dico già che la coreografia sarà molto divertente, quindi mi raccomando la giusta dose di ironia per riuscire a farlo al meglio. Vi dico già che cominciamo di schiena, quindi seguitemi. Io girerò il mio viso verso il muro, quindi anche voi dovete mettermi di schiena rispetto al video. E la cosa che dovete fare sarà piegare la gamba sinistra, tenendo in presa la gamba destra e sculennando. Quindi sì, iniziamo muovendo il bacino, vai, pronti? E faccio 3 movimenti dello stesso tipo, 1, 2, 3, guardo lo specchio, o guardo davanti, io lo specchio. In questo caso, e faccio ok, come ok, iniziamo a danzare. Ancora, e 1, 2, 3, guardo, c'è una piccola pausa, ok. E da qua mi giro, quindi faccio premio sulla gamba destra e chiudo con la gamba sinistra. Da qua, rotolino, rotolino, il rotolino va verso l'interno, quindi i pugni dovete montarli verso di voi. E rotolino, rotolino, giù, rotolino, rotolino, giù. Lo stesso movimento sia destra che sinistra. Vado a destra e giù, sinistra e giù. Di nuovo da capo, e, 1, 2, 3, e, e la, e, carararara, e, carararara, e. Da qui, ultimo pezzettino per oggi, faccio 3 puntate andando sempre a spettare verso destra. 1, 2, 3, giù, stessa cosa dall'altra, 1, 2, 3, giù, quindi velocità sarà 1, 2, 3, giù, 1, 2, 3, giù, facciamo tutto da capo e per oggi abbiamo finito. Pronti? E 1, 2, 3, guardo, segno e chiudo. Aggiungo una piccola cosa, quando chiudete fate in là, quindi bacchiamo le mani. Da qua, rotolino, rotolino, giù, rotolino, rotolino, giù, gomito, 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 giù, gomito, 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 giù. Tutto da capo l'ultima volta, pronti? E 1, 2, 3, e, c'è, e la, paraparapara, giù, paraparapara, giù, 1, 2, 3, giù, 1, 2, 3, giù. Bene, cosa ne dite di provare con la musica? Dai, proviamo! Belli carichi, mi raccomando, eh! Come sta andando? Ancora una volta e poi ci salutiamo! Forza! Eccoci! Allora, come avete visto, la coreografia è simpatica, non c'è niente di difficile, basta solo un po' di impegno, un po' di ironia e sono sicura che riuscirete a fare tutto. Quindi mi raccomando, divertitevi come sempre e ci vediamo la prossima puntata. Ciao ciao ragazzi!